No Ragazze, buonasera è sabato, 23 settembre ci stiamo preparando per fare l'allestimento per il meeting di domani, 24 settembre ora vi porto un pochettino con me a vedere un po' il casino, il caos che c'è nella preparazione di un meeting etienne eccoci qua, buongiorno oggi è domenica, stanotte ha diluviato a Palermo una roba impressionante siamo finalmente per iniziare il nostro meeting il sole diciamo che non c'è però siamo fiduciosi ci uscirà prima o poi meeting bagnato ah qua mi suggerisce giustamente la nostra collega meeting bagnato, meeting infortunato per caso piace solamente la camicia oggi siamo come dicevo ieri alla storia iniziamo verso le 10 e mezza sono ancora le 10 e 5 e vi aggiorneremo a buttarvi lo step by step un abbraccio un abbraccio Sigret è una linea di acrilico sempre di etienne è un prodotto nuovo composto ovviamente per chi già conosce un pochettino diciamo la ricostruzione in acrilico sono delle polveri trasparenti delle polveri cover delle polveri colorate il monomero che è il liquido che ci serve appunto per fare la ricostruzione unghie e poi siamo usciti anche con i pennelli per la ricostruzione sia la misura 10 che una misura per struttura e poi la misura 6 la misura 4 che sono pennelli per la decorazione ve li faccio vedere qui c'è il cielo non si vede bene sicuramente la punta però riusciremo poi a farveli vedere meglio le polveri sono in questi formati riuscirò prima o poi ad aprirla ci sono riuscito questo ad esempio è il giallo che da noi si chiama yellow abbiamo dato i nomi quasi tutti in inglese così per essere più international e abbiamo diversi colori dal giallo, il verde, il pink, il rock pink il chocolate poi qua sotto invece abbiamo l'orange il white il lilac il black e questo che non ricordo come si chiama che è il rock pink che è un colore che secondo me quest'inverno andrà tantissimo perché è un ibrido tra il rosa e il lilla il bello delle polveri a differenza dei gel colorati comunque si possono fare pure però con la polvere è più semplice fare la miscelazione dei colori questa è la presentazione adesso io e i miei colleghi abbiamo oggi con noi Gianna che si occuperà che è questa qui che è questa qui che è questa qui che si occuperà di manicure Gianna farà manicure russa o manicure dry o dry manicure in etienne si chiama il corso si chiama last manicure system presenterà questi prodotti fermi lì un attimo che sto ve li vado a prendere fermi arrivo questa grande che è questa qua la bottiglietta sei riuscita a zoomare brava ragazza si merita nello stipendio dopo di che facciamo così nei nostri video nei nostri filtri i colori sono questi qui che utilizzerà Gianna sono gli HD One Step che vi ho presentato nell'altro video che hanno questa densità più collosa io li chiamo mi piace queste verbine che sono proprio siccome l'azienda è la mia dico quello che voglio e in più Gianna farà anche E-Session Ciglia questa invece la linea di E-Session che faremo le dimostrazioni qui ora vi presento gli altri mie colleghe che oggi sono con me che oggi farà dimostrazione in gel è una cabotega da tanti anni oggi ha con un colore di capello più aggressivo e aggressivo brava lei invece abbiamo come la chiamo io la De Luca parlati di la luce a De Luca così vedi meglio oggi invece Francesca si occuperà come ho detto di Secret perciò farà dimostrazioni in acrilico Francesca anche lei è una delle fedelissime ora vi presento altre due Crizia che non è una charanza Crizia Crizia e il suo chatouche che ci piace tanto e poi abbiamo anche la Fabiola che la vedete pure ogni tanto con noi super figa è super figa anche lei ci fighi che ne tiene o almeno qualcosa di buono ce l'abbiamo qualcosa oltre le aziende siamo fighi c'è tanto di buono tanto sì detto questo vi saluto vi lascio e ci dedichiamo le nostre dimostrazioni in gel e ci vediamo la signora dice che i miei video sono fantastici e coraggiosa tutti e noi mi divertissimi mi piace il sacco veramente mi sforzo mi piace da questo perché è bellissimo fantastico secondo me c'è qualcuno che vuole più impostato più serio no rimane così che sei creato grazie a tutti 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 grazie a tutti